sarebbe in corso in riavvicinamento tra greta rossetti e sergio dottavi a lanciare l'indiscrezione è stata dejanira marzano che ha ricevuto una segnalazione da un profilo vero nella quale si parla di un incontro tra i due ex concorrenti del grande fratello a torino greta e sergio insieme oggi a torino li ho beccati da zara non ho fatto foto ma posso dirti che erano insieme prima da bershka e poi da zara una bambina ha fatto le foto con loro quindi sicuramente verrà fuori lo scorso 27 agosto greta rossetti aveva annunciato una nuova rottura con sergio dottavi dopo la prima lui aveva parlato di un presunto tradimento da parte di lei salvo poi fare marcia indietro virgolette parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa io non vi nego che il comunicato che lo sto pubblicando ora a distanza di giorni perché fino all'ultimo forse fino ad ora ho sperato che non fosse così per il rispetto di quella che è stata per me questa relazione i motivi li terrò privati e non credete a tutto quello che leggete ovviamente ringrazio tutte le persone che ci hanno creduto e sostenuto le parole dell'ex gfina non siamo stati la coppia perfetta che si esponeva tanto soprattutto nell'ultimo periodo per scelta di entrambi stavamo costruendo tanto per questo ancora non ci credo ma vi assicuro che c'è stato quel legame che avete visto nei giorni successivi si era vociferato che sergio avesse già voltato pagina e che stesse frequentando una ragazza a bali tuttavia questo rumor è stato smentito da deianira marzano lo scorso fine settimana greta si trovava a venezia per la mostra del cinema e sergio aveva piazzato diversi liché ad alcune foto condivise dall'ex fidanzata secondo i fan della coppia si trattava di un segnale importante che poteva aprire ad un possibile ritorno di fiamma l'incontro a torino se confermato andrebbe esattamente in quella direzione